Ciao Fabiuccio, e niente che dire fratello, purtroppo ormai la nostra categoria, tu sai bene che non vive giorni felici, ma già da parecchio tempo, purtroppo le leggi sono sempre più restrittive e controproducenti ai nostri confronti. Il pescatore ormai è un lavoro in via di estinzione, ma è sotto gli occhi di tutti, non lo dico io, il caro caburante, il caro ingenere di tutte le nostre materie prime, cassette, ghiaccio, leggi inutili per il nostro lavoro, ma che ci costringono a rispettare. Siamo morti ormai Fabiuccio, una categoria ormai distrutta, siamo davvero pochi rimasti e quei pochi stiamo facendo davvero una grande, ma grande, grande fatica a restare. Un saluto, ciao Fabiuccio!